Ancora atti vandalici nel cuore della notte a Teramo, questa volta ignoti hanno fatto tappa alla piscina comunale nella zona dell'Acquaviva e ancora una volta in Piazza Sant'Anna nel cuore del centro storico. All'interno della piscina comunale, in gestione a due società, l'Acquaviva Nuoto Teramo e la Rarinantes, i ladri sono riusciti prima a smurare una cassaforte con l'uso di un piccone, poi ad appropriarsi del materiale della squadra di nuoto del valore di 1600 euro ed infine ad aprire armati di Imola una macchina cambia gettoni che all'interno aveva circa 300 euro. I malviventi hanno anche portato via tutto ciò che era conservato negli armadietti in uso all'impresa di pulizie. Diverso invece l'episodio che ha come protagonista Piazza Sant'Anna, lì i vandali sono riusciti a rompere le vetrate, che avrebbero dovuto essere infrangibili almeno stando all'amministrazione comunale e che delimitano gli scavi archeologici. I residenti si sono detti stanchi di questa situazione anche perché manca un qualsiasi sistema di controllo e di videosorveglianza. Quello di stanotte infatti è l'ennesimo episodio di vandalismo e inciviltà che colpisce Piazza Sant'Anna, oggetto di bravate, bivacchi, atti di vandalismo di ragazzini aspiranti bulli impegnati a rendere invivibile il salotto storico del centro cittadino. Sui due episodi indaga la polizia.